Siamo con Tony Fornari dentro il Teatro degli Oscuri di Torrita A pochi secondi a questo punto dalla commedia Camping Scritta e diretta proprio da Tony Fornari Ecco, la prima domanda che ti faccio è proprio relativa alla scrittura di questo testo Di questo camping Vediamo che dietro di te c'è il palco già allestito come un bel prato verde Ecco, perché e come è nata questa cosa? Dunque, intanto la cosa particolare è che il palcoscenico diventa proprio un campeggio Prima un prato dove poi si montano delle tende per cui diventa un campeggio Questo spettacolo nasce grazie al progetto Giovani del Teatro Golden di Roma Ed è uno spettacolo fatto, scritto appositamente per la classe del terzo anno, dello scorso anno Cioè quelli che si sono diplomati al Teatro Golden E ragazzi che noi conosciamo, perché io appunto scrivendo, lavorando al Teatro Golden molto spesso Abbiamo scritto uno spettacolo, ho scritto uno spettacolo proprio su misura, diciamo per loro Ed è una storia di loro, sono tutti ragazzi, tutti ventenni che vanno in vacanza Questo campeggio, decidono di fare questo campeggio un po' così all'avventura E sarà una vacanza particolare, perché succederanno delle cose per cui si scopriranno alcuni segreti Si squilleranno alcune cose E praticamente dopo questa vacanza niente sarà più come prima Nel senso buono però, non succedono drammi, si scopriranno anche qualche dramma Ma è una commedia, una commedia a lieto fine Ed è una commedia che parla di giovani, di ragazzi in vacanza E quindi tutto quello che è inerente ai giovani, alle vacanze Quindi coppie, amore, liti Insomma, è una cosa molto divertente, perché già l'abbiamo fatto Quindi speriamo che funzioni anche qui al Teatro degli Oscuri Ma credo di sì, qui insomma il pubblico è sempre molto pronto e preparato Seconda domanda Hai detto appunto che questo è uno spettacolo che nasce da una scuola di teatro Quindi ecco, qual è la componente formativa, la componente educativa per questi giovani attori Partecipare a camping, a questo spettacolo Come la vedi tu? Come l'hai intesa? Allora, è proprio un approccio al lavoro professionale Perché io mi sono comportato sia da autore che da regista soprattutto Come se avessi dei professionisti, perché loro così sono professionisti Giovani professionisti, ma sono gente che dovrebbe e vorrebbe fare questo per mestiere Per cui li ho diretti come se dirigessi degli attori già affermati Per cui questa cosa è già importante per loro Perché fino adesso sono stati trattati da lievi E invece questo spettacolo li ha proprio traghettati proprio nel professionismo Quindi, e devo dire che insomma si sono comportati benissimo Perché non è facile, perché venendo da una scuola Poi, nascendo lì lo spettacolo, il rischio è quello di dire Vabbè ma è sempre una scuola Quindi invece io ci ho tenuto a specificare che questo era un lavoro Come se fosse un lavoro, una commedia scritta per loro Per cui come se fossi un regista fuori dalla scuola Non è più scuola, è il vostro lavoro Per cui questa cosa credo sia stata una cosa più importante Cioè io li ho trattati come dei professionisti E loro si sono comportati da professionisti Quindi è una cosa importante Il primo lavoro, il primo approccio al professionismo Per dei giovani attori Quindi è molto importante da questo punto di vista Oltre che per lo spettacolo in sé Ultima domanda Poi ti lascio andare a prendere la tua posizione Da controllore Maître en scène per dirla alla francese No, che tu sei regista teatrale Ma possiamo, lo diciamo Sei anche un regista cinematografico di tutto rispetto Perché proprio in questi giorni è nelle sale la casa di famiglia Sì, che non è però È scritto da me, da Augusto Fornale che è mio fratello Andrea Maia che è il direttore del Golden E Vincenzo Sinopoli Però non è, diciamo, io non sono il regista Ma è il regista Augusto Invece la mia prima regia cinematografica E per finché giudice non ci separe Che è la commedia con la quale noi siamo venuti qui anche l'altro anno Esatto E proprio a questo proposito ti voglio chiedere Qual è lo scarto secondo te? Cioè come la vivi tu? La differenza tra il dirigere uno spettacolo teatrale Il montare soprattutto uno spettacolo teatrale E invece il montare le scene cinematografiche E dirigere degli attori da dietro una macchina da presa È una cosa completamente diversa Anche perché il testo, ovviamente la storia è rimasta identica Però ovviamente andando nel cinema C'è la possibilità di vedere Di andare dentro la vita dei protagonisti Lì li vedevamo tutti quanti intorno Succedeva tutto in una sera a teatro E quindi li vedevamo lì Raccontavano le loro vite Invece nel film si vedono le loro vite E quindi ognuno ha una sua vita Quindi il giudice, i quattro amici Ognuno ha una sua vita Quindi è una cosa molto più complicata Anche più, se vogliamo, più interessante Perché andiamo proprio a scavare Nella vita dei cinque protagonisti Della commedia e quindi del film Io sono attore sia nella pièce teatrale Sia nel film Per cui mi sono anche diretto Quindi io dirigevo e poi facevo quindi È stata la mia prima regia Però insieme ad Andrea Maia Proprio perché io ero anche attore Abbiamo deciso di fare questa co-regia Devo dire che è andata benissimo Perché ci siamo trovati Perché con Andrea scriviamo da tanti anni Quindi c'è un rapporto bellissimo Però non sempre E invece ci siamo trovati d'accordo su tutto Abbiamo fatto questo film Che uscirà a febbraio o marzo Ancora non è sicuro E speriamo che vada bene E speriamo che ce ne siano degli altri Noi abbiamo scritto tutte le nostre commedie Quasi tutte le nostre commedie teatrali Hanno il possibile sbocco cinematografico Quindi spera che siano Che diventino tutti quanti film E quindi noi siamo curiosissimi Di vedere qui al Teatro degli Oscuri Camping E di vedere le produzioni del Teatro Golden E di Tony Fornari Quanto più possibile nei teatri e nei cinema italiani Speriamo Grazie mille a Tony Fornari Grazie a voi Ciao a tutti Grazie a tutti